Sì, è stato molto emozionante per me che ero seduta sul divano a vedere la partita di Roma-Barcellona e il nuovo record italiano femminile. Io mi ricordo benissimo quando ho giocato all'Allianz ed è stato molto emozionante e sono molto contenta di questa crescita del femminile. Noi, come si vede, siamo una squadra molto matura e dalle ultime partite si è vista, secondo me, è un'aggressività diversa, sappiamo bene quello che dobbiamo fare in campo e sicuramente non dobbiamo sottovalutare il Cesena perché mi ricordo il girone di andata che abbiamo perso tre punti, è una squadra giovane che lotta e conosco tante giocatrici e quindi, secondo me, come ogni partita, dobbiamo scendere in campo determinate e sapere quello che dobbiamo fare. Da qui alla fine del campionato mancano nuove partite e dobbiamo mettere determinazione e voglia di vincere.